Oggi abbiamo voluto fare un incontro con tutte le RSU dello stabilimento Aste e di tutte le ditte dell'appalto perché è importante dopo settimane di mobilitazione all'indomani della rottura della trattativa mettere insieme la programmazione di iniziative di mobilitazione, quella di domani davanti all'ambasciata tedesca, quella successiva da programmare in Germania che abbiamo già annunciato al sindacato tedesco e abbiamo incassato il loro sostegno, sull'altro piano dobbiamo porre il massimo dell'attenzione sulla riapertura del negoziato. Su questo è molto importante che il ruolo del governo Renzi ha annunciato alla Lepolda che se ne occupa in prima persona, un Presidente del Consiglio non può solo incoraggiare la riapertura del negoziato, deve lavorare per trovare insieme a noi le soluzioni perché si arrivi ad un accordo che mantenga un piano industriale sostenibile che rilanci l'azienda, scongiuri i licenziamenti e i tagli dal punto di vista salariale che per noi sono inaccettabili.